In questo video conclusivo, l'ultimo di questa miniserie di 5 video, parliamo un po' di dati analitici che forse sono un po' la parte più delicata e interessante della condivisione di modelli online dove è praticamente tutto tracciabile. Quindi caricare oggetti nella galleria online per l'azienda è interessante perché significa avere visibilità, significa poter essere un produttore che praticamente a costo zero vede a disposizione in tutto il mondo istantaneamente i suoi prodotti in forma digitale in modo che potenziali progettisti o utenti, clienti diretti, privati, possano essere raggiunti, possano essere interessati a questi prodotti, a questi cataloghi, a queste collezioni. Quindi per gli utenti privati, come può essere ad esempio sottoscritto, come qualsiasi utente può fare, c'è un account gratuito dove poter caricare e quindi poter anche scaricare componenti. Ma per le aziende esistono anche le pagine brandizzate, per le aziende c'è a pagamento la possibilità di realizzare delle pagine con maggiori funzionalità rispetto a quelle che abbiamo visto precedentemente. Avere una pagina con un brand, logo e funzionalità più diciamo professionali per identificare bene il brand, quindi anche maggiori strumenti relativi all'analisi dei dati. Faccio vedere quelli che sono proprio del mio account, quindi vediamo come dire un account generico. Vado a selezionare in particolare un componente che era stato posizionato nell'home page per un certo periodo. Nel mio elenco di modelli lo vado a selezionare, questo qui. Qualsiasi modello io vado a selezionare nella 3D Warehouse, questi dati li vedo, il numero di mi piace, il numero di download, il numero di visualizzazioni. Ma se il componente è mio, e ovviamente i commenti sotto che fanno sempre piacere, se il modello è mio posso andare a selezionare dati analitici. Come si può vedere qui è evidente quando è stato tolto dall'home page, perché download e visualizzazioni si sono praticamente bloccate. Questo per dire che i dati sono efficaci, ti fanno vedere se un oggetto ha avuto visibilità, si è aggirato. Peraltro questo è stato utilizzato e viene comunemente utilizzato da una software house che ha un motore di rendering che lo ha utilizzato evidentemente come cavia, come modello così di prova. E quindi su Facebook vedo spessissimo il mio modello caricato quindi quando nel 2015 nelle pubblicità di quell'azienda che se lo usa come esempio di bontà dei suoi rendering. Semplicemente al posto di farselo un modello, l'hanno scaricato dalla galleria online, probabilmente in quel periodo lo avevano trovato nell'home page e adesso lo stanno usando. Cosa che possono fare? Perché non ci sono limitazioni su quello che posso fare con i modelli 3D. Salvo spacciarli per miei, dichiaratamente, se invece sono stati fatti da qualcun altro. Allora questi dati che vediamo qui, sono quelli che si riferiscono quindi a questo singolo modello e sono abbastanza generici, non so le persone chi sono né geograficamente dove si trovano, quelle che hanno messo un mi piace o che hanno scaricato o che hanno visualizzato e quindi sono interessate a questo prodotto. Chiaro questo è un edificio quindi non è che sia un oggetto, sia un prodotto commercializzabile ma è evidente che se si trattasse di una sedia, di un elemento d'arredo, un serramento chissà che altro elemento di illuminazione prefabbricato potrebbero essere qualsiasi cosa chi l'ha scaricato potenzialmente è interessato ad acquistarlo. Andiamo a vedere i dati analitici globali del mio account quindi se vado qui su dati analitici vedo il totale e anche qui non posso sapere qual è l'oggetto che ha ricevuto maggiori download, maggiori like in un certo lasso di tempo. Vedo genericamente un numero di download, di visualizzazione di mi piace nel lasso di tempo selezionato che può essere un singolo giorno, settimana, mese, un anno o un lasso di tempo personalizzato. Ecco, questi dati a me come privato mi dicono poco, mi fa piacere se qualcuno ha cliccato like posso essere contento se ci sono stati tanti download ma diciamo la cosa finisce qua. Come dicevo invece negli account per aziende è possibile avere un maggior numero di informazioni. Questo è un esempio di uno screenshot estrapolato, ne vediamo giusto un paio per dare un po' l'impressione di quello che sono le funzionalità avanzate per i brand ufficiali che peraltro questo tipo di miglioramenti dedicati proprio alle aziende sono in continuo miglioramento. La 3D Warehouse ha intenzione poco alla volta di evolvere in quel senso di diventare una vetrina per le aziende e mettere a disposizione sempre più strumenti di gestione per avere informazioni su chi è questo pubblico interessato a questi prodotti. Quindi esempio, questa immagine che mi piace moltissimo è il mappamondo, è un planisfero, è una distribuzione di download in senso geografico che può permettere di avere dei colpi d'occhio su aree geografiche magari in cui insospettabilmente un determinato prodotto va forte. Può essere un arredo in stampo un po' orientaleggiante magari per un certo periodo diventa molto di voga, che ne so, in Sud America. È giusto per fare un esempio. Ma come faccio a saperlo se io non ho il dato? Non lo posso sapere molto facilmente se non attraverso i dati di vendita ma questo potrebbe essere invece uno strumento previsionale, istantaneo che mi informa sull'andamento di questi prodotti, di questi download, di questi mi piace. L'aeroportistica è varia, non stiamo qui adesso a dilungarci tanto su quello. Era giusto per accennare a questo tipo di potenzialità che c'è in città in una galleria di questo tipo che da anni raccoglie migliaia, milioni di modelli e ha fidelizzato milioni di utenti al mondo.